Leva le cucchie, vai! Vai, dai! Vai, dai Francesco! Vai! Vai, Franci! Metti la coloncina! Ascolta! Ascolta! Vai, vai! Dai! Dai! Mamma! Dai, Franci! Vai! Franci, dite all'elicotterista di dirle delle parole di conforto! Sta male, ragazzi! Si sta sentendo male! Dite all'elicotterista di... Ecco! No! Allora... Dai, sei... Ma non mi sente! Lorenzo Campagnari, non mi sento! Non mi scrivere sulla lavagnetta, sei quasi in acqua! Dai, dai, chi ce la fa? Guarda! Allora, l'elicotterista mi sente? Hablo in spagnol! Tu hablo in spagnol? No, non mi sento! Non mi sento! E Roby, come... Non so, sono l'alimentazione! Non mi sento! Lo so, però Roby, cosa devo fare io? Ok! Ma io non posso parlare con quello il vero... Vedi che vai in iperventilazione e sta rispondendo! Allora, è questo che sono preoccupata! Dovrebbe rientrare, non stare così, però! No, Roby, però se si sente male, però evitiamo, perché io non voglio che le stesse male! Meglio seduta! Meglio seduta! Se si sente male, si butta in acqua, ragazzi! Allora, ripetete le cuffie, Francesca! Parlo un attimo con lei! Roby, si può in qualche modo dire a qualcuno della produzione che... Che parli con... No, perché... Ah, è riuscita adesso! ... Ero!